Innanzitutto vaccinarci tutti, perché questo è uno di quegli step da cui non possiamo prescindere, per tornare veramente a una vita che sia una vera vita. Non parlo di normalità, parlo di vita vissuta a pieno. Inizia con un invito a vaccinarsi Rosaria del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa di Macerata, un invito per un ritorno più veloce alla normalità e lo fa presentando anche l'iniziativa natalizia della Croce Rossa la pesca di beneficenza in un locale di Via Matteotti, in centro storico a Macerata. Una pesca che grazie alla grande abnegazione di tutti i volontari, grazie alle generosità delle ditte che ci sostengono, cerchiamo di rendere il più ricca possibile, cerchiamo di raccogliere il maggior numero di fondi possibili, di risorse economiche possibili per regalare poi a nostra volta un Natale sereno a tante famiglie che non se lo potranno permettere. È un modo per stare vicino, è anche un modo per incontrarsi, è un modo per confrontarsi. Non possiamo tornare alle conviviali natalizie, non possiamo tornare agli abbracci e agli auguri scambiati lungo le vie cittadine, però veniteci a trovare con la mascherina, rispettando rigorosamente i protocolli Covid, ci augureremo un buon Natale e un buon anno, un buon anno che finalmente ci liberi e ci faccia uscire da questa grave situazione, migliorati perché abbiamo toccato il fondo e abbiamo vissuto male per due anni, sicuramente tornare a una vita che sia degna di essere vissuta appieno.